api antinfortunistica prevenzione incendi l'azienda è leader nel settore antincendio antinfortunistico e segnaletico dal 1972 nel campo della segnaletica e in quello dell'antinfortunistica propone un'ampia gamma di prodotti grazie alla presenza costante di professionisti è in grado di offrire una costante consulenza in materia antincendio e sicurezza del lavoro per permettere un'elevata qualità del servizio lo staff tecnico riceve una formazione continua su tutto il panorama normativo italiano ed europeo